La violenza E' stata una scena di accuse reciproche, quando la cipollari, sentendola dal Ghani che l'intimava stare zitta, è saltata dalla sedia per andarle contro Per sudare gli anni, è intervenuto Gianni Sperti, che si è beccato una ginocchiata di Tina nelle parti basse, la scena non è piaciuta e sui social è montata la polemica? Tina è sempre più esagerata c'è un limite a tutto Ha twittato un telespettatore, mentre un'altra autente chiede, «Solo io penso che il comportamento di Tina verso Gemma sia bollismo, Maria De Filippi riuscirà a trattenere le ere della sua opinionista di punta o permetterà ancora che la violenza prenda il sopravvento?»